Ciao, come ti chiami? Mi chiamo già pranzo Quanti anni hai? Ho 37 anni Che cosa fai nella vita? Non vedi, stai a mangiare Bionda o mora? Bionda Gatto o ratto? Fatto Ma che cazzo domanda Che stai a fare? Mortacci, nuva Non vedi che stai a mangiare Mi devi rompere i coglioni La posizione sessuale Che preferisci? Ehm... A morte candida Ti piace quella pietina? Porca sottosia Se mi piace Fai un saluto agli amici dei The Club Ciao ragazzi Spagnate e bevete che è una roba più importante